Seconda giornata di campionato della prima tappa via regina Domus Bet TV Catanevic Soccer, opposto all'ICR Lamezia, sconfitto sonoramente per 10-3 all'esordio dall'Alza Lab Napoli Vic Soccer. Buona la prima contro la Samb, Etneke però non si ripetono nell'approccio e vanno subito sotto al terzo minuto. Conclusione di Ryan, Padiglia fa quel che può il tapin vincente e di Francesco Morelli, tutto solo e a due passi dalla porta sguarnita. Rossazzurri che provano a scrollarsi di dosso lo svantaggio maturato, ci prova il quarto Fred su cui Martino è decisivo a tu per tu, bravo ad opporsi poi con i pugni sulla conclusione del collega Raffael Padiglia. A rimettere i cocci a posto ci pensa all'ottavo minuto Marco Giordani servito dalla sinistra, conclusione che si inzacca all'angolino alla sinistra di Martino. Euro goal del 23 rossazzurro in rete con la Samb, in rete anche con il Lamezia. Pareggio che suona quanto meno la carica con il tiro velenoso al decimo di Be Martins che non trova la cunetta mica. Primo tempo che stancamente volge verso la conclusione con il tiro all'undicesimo di Ryan su cui Raffael Padiglia quasi senza muoversi respinge con la solita sicurezza. Termina sul parziale di uno pari, un primo tempo equilibrato con poco ritmo e pochissimi spazi concessi al quintetto di Fabrizio Santos che proverà nei secondi 12 di gioco a cambiare inerzi al match. L'ICR Lamezia fa la sua partita, Gagliarda sono trascorsi appena 15 secondi e il primo tiro in porta è di Ryan. Lo stesso numero 11 impegna Padiglia che non si scompone con un bel tuffo alla sua sinistra. L'estremo difensore rossazzurro si rivela sempre sicuro anche al sesto minuto sul piazzato di Scalese. Catania che non riesce a graffiare all'undicesimo acrobazia di Caic su cui Farigna per poco non arriva a decidere la gara. Sarà allora la terza frazione di gioco che inizia nel migliore di modi per la Domus Bet TV Catania-Bicsocche. Raffael Padiglia fin qui prezioso tra i pali diventa ancora una volta cannoniere. Conclusione precisa e potente all'angolino destro imprendibile per Martino che stavolta non può nulla. Rossazzurri avanti di un gol, manca però il ritmo ancora compassato. Ci prova un indomito Caic mettendosi in proprio, palla riconquistata. Conclusione però docile che non fa male. Ancora una palla a gol stavolta per Catarino Murato in calcio d'angolo ma è lo squillo di Ryan. Servito da Baligna a rimettere il match nuovamente in parità al minuto 9. Gara che si complica nuovamente a tre giri di lancette dal termine. Ma è un pareggio che dura solo pochi frame con Marcello Perciamontani abile a correggere il pallone. Calciato da Fredda e deviato da Baligna. Catania avanti per la seconda volta ma il match non è ancora chiuso. Palla sanguinosa perduta da Giosep per l'arbitro. Non ci sono i presupposti del fallo. Baligna spreca clamorosamente mancando la palla del 3-3. Trema il Catania che nel finale potrebbe chiudere il conto con Catarino e ancora con Ben Martins su cui il giovane portiere Lametino Martino si conferma in stato di grazia. Finisce 3-2 per la Domus Bet TV Catania Beach Soccer. Non la migliore partita giocata dai ragazzi di Fabrizio Santos che comunque portano a casa l'intero posta in palio volando a quota 6 punti. Tappa che si chiuderà domani alle ore 18 con la finale di Supercoppa di Lega rivincita dello scorso luglio ancora a Viareggio contro i campioni d'Italia. Diretta Sudazon da non perdere.